Una bravata, questo per il tipo di messaggio credo che non si possa definire tale, almeno con il convorto che mi hanno dato la sua eccellenza e prefetto, il signor questore, i carabinieri intervenuti subito sul posto, con il capitano Petrocchi, con Andande Scibetta e tutti gli uomini dell'arma, la vicinanza della Polizia di Stato del Commissario Lombardo, non sembra una bravata, è evidente che c'è qualcuno dalla mente deviata che è convinto di agire o per ragioni incredibilmente antidemocratiche, cioè che è convinto che si possa esercitare la democrazia che non è democrazia con messaggi atavici e barbari o altrimenti qualcuno che si è sentito leso da questa azione di legalità portata avanti negli anni, che si deve semplicemente vergognare e non deve avere neanche il coraggio di guardarsi allo specchio e farebbe cosa buona e giusta a costituirsi alle autorità preposte e chiedere scusa non al sottoscritto ma alla mia famiglia e alla mia città, perché non lo merita la mia famiglia, non lo merita Palma non lo merita la mia famiglia, non lo merita la mia famiglia, non lo merita la mia famiglia, non lo